Oh, chiacchieroni del cazzo, piangina di merda, cos'è? Cos'era? Rigore su Parisi nel primo tempo? Cos'era? D'annullare il gol di Lautaro? O dovete smetterla di piangere? Iniziate a parlare di calcio, ignoranti di merda. Ignoranti di merda, perché gli è pure stato regalato un rigore alla Fiorentina, perché Sommer tocca prima il pallone quando va di pugno, tocca il pallone e poi tocca la testa di Inzolà. Vergognoso rigore dato alla Fiorentina. E vergognoso Parisi, impara a giocare a calcio prima di piangere. Cazzo, ogni volta che c'era un corner, un calcio piazzato, lo sveniva per terra, quel coglione. Posso di vedere i Fiorentini che ci vengono a rompere i coglioni sotto nei commenti e a dire che abbiamo ladrato? Prendetevela con il vostro giocatore di merda, che ha pianto tutta la partita. Merda, godo, godo. Ve lo meritate. Vi han pure regalato un rigore, e un rigore è giustamente sbagliato. Giustamente sbagliato. Perché Sommer tocca prima il pallone col pugno. Prima tocca il pallone e poi tocca la testa di Inzolà. Ci arriva prima Sommer sul pallone. L'arbitro non ha neanche guardato mezzo secondo al VAR. Ha dato un'occhiata così è andato a dare rigore. E vi lamentate pure del... quella... Cos'era quella trattenuta di bastoni su Parisi? Ma quella lì ha munizionato... Parisi doveva essere espulso per due simulazioni. Quella sul gol di Lautaro? Deficiente, che si butta per terra e lascia segnare Lautaro. E quella su bastoni? Parisi doveva essere espulso, doveva essere, per quanto è vergognoso. Stasera non le passo. Merda e schifose. Giusto così. Quindi sofferenza, ragazzi. Fuori dal normale. Intanto scusate se ho la bandana, ma c'ho un bernocolo sotto che fa impressione. E sofferenza, ragazzi. Cioè stasera abbiamo giocato male. Male, male, male. Con la Juve io mi auguro che... Di non vedere sta prestazione qua. Perché con la Juve con sta prestazione non vai lontano. Seconda cosa, oh, ragazzi. I palloni alti in mezzo. I palloni alti in mezzo li ha presi tutti in Zola. Io vi giuro, non so come non abbiamo preso gol. Oltre che Sommer ha fatto un paratone. Ha fatto un paratone Sommer. Nel primo tempo. Ma ragazzi, in Zola... Zola le ha prese tutte. Tutte. Raga, per carità, eh. Ci sta a soffrire a Firenze. Purtroppo non si può sempre fare le partitone. Però con la Juve ci vuole uno switch. Ci vuole uno switch. Innanzitutto non si possono buttare via tutti quei contropiedi. È vergognoso, eh. È vergognoso. Non si possono buttare via tutti quei contropiedi. Un'altra cosa che voglio dire, perché ci metto la faccia, ho sempre voluto fra tesi titolare, ma è stato il peggiore in campo. È stato oggi il peggiore in campo, fra tesi. Ha provato a far tante robe da solo. Non è riuscito a tenersi un pallone, a guadagnarsi un fallo. Non è riuscito a far niente. Anche Turan, malissimo, stasera. Io non so come cazzo ha fatto a cadere su quel contropiede. Allora, non si è inciampato sul pallone, e capivi. Non è scivolato sul terreno. Si è impiantato lì la scarpa in una zolla. Come cazzo hai fatto? Cazzo, lì andavamo a chiudere la partita già nel primo tempo. Per il resto, ragazzi... Sommer ha fatto un paratone. La difesa non mi è piaciuta per niente. Ma per niente, proprio. L'ha presa tutta in zolla di testa. Poi non è che dici abbiamo Mkhitaryan come difensore centrale che è alto 1,65-1,70. Cazzo, avevamo De Vrij. Cioè, De Vrij è alto 1,90. Adesso non lo so, comunque penso sia almeno 1,90. Cazzo, oh, non ne ha presa una, non ne ha presa. Stasera sicuramente era una partita da... Adesso non da vittoria della Fiorentina perché abbiamo buttato via una quantità di contropiedi industriale. Però pareggio sicuro. Pareggio sicuro era stasera, però, ragazzi. Non si possono vincere tutte vincendo 4-0, cioè, nel senso. E comunque, lo dico, stasera noi abbiamo subito la ladrata. Noi. Perché Parisi deve essere veramente irradiato dal calcio, per quanto è vergognoso. E quello lì per la Fiorentina non è mai rigore. Ma che cazzo di rigori sono questi? E lo dico anche, quello su Turam, col Frozinone, non era rigore per noi. Ormai il calcio è fatto di rigorini. Ma che cazzo di... Ma cos'è questa roba? Ma cos'è queste robine qua? Cosa sono? Vabbè. Sono contento che comunque siamo riusciti anche a far riposare Di Marco. Sono contento. Quindi hanno riposato Di Marco, Barella e Cialanoglu. Benissimo. E Aslani. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto Aslani. Poi mi è piaciuto abbastanza Carlos Augusto. Diciamo ha fatto abbastanza bene, anche se in attacco non è incisivo come Di Marco. Pavard. Sì, Pavard non mi è piaciuto. Scusate, ho dovuto interrompere perché ogni volta passano quando faccio i video. Non è entrato neanche oggi Buccanan. O Buccanan, non so come si chiama. Cioè, non l'ha fatto giocare in Supercoppa. Non l'ha fatto giocare oggi. Non l'ha mai fatto giocare. Non so, non so perché facciamo gli acquisti. Darmian non mi è piaciuto. Darmian non mi sta piacendo ultimamente. Deve assolutamente riposare. Però Inzaghi non lo fa riposare. Preferisce far riposare Di Marco. Vabbè. Boh, raga. Chiudo il video. E niente. Oggi dobbiamo essere veramente tanto, tanto contenti di esserci portati a casa i tre punti. Dai ragazzi. Grazie. 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 Grazie.